La Santa Famiglia è modello anche in questo, ascoltare la chiamata e partire senza indugio, vivere in perenne cammino, guidati da Cristo alla ricerca del Padre, certi che un giorno vivremo con Lui. Quel grido che sudì in rama, lamento sconsolato di Rachele che piange i suoi figli non vale per noi. Richiamati dal Padre in Cristo staremo sempre con Lui come figli eternamente amati.